Tipo, proprio ieri ho trovato un biscotto della fortuna che mi ha molto colpito e diceva ignorante, non è chi non sa ma chi non cerca di sapere. Ti ha capito com'è? Sì, adesso sono proprio curioso di sapere cosa ha preparato. Se s'altro, sono ispirato. Dai che so caldo, tacca, ci ne è presa. Ciao persone, sono l'assessore Ciano Contini. Oggi con Discovery Ciano vi porto a visitare il Parco Naturale Regionale della Lessinia. Lo sapevi che qui ci sono grotte, abissi di roccia frequentati dai speleologi di tutta Europa? Io no. Lo sapevi che qui ci sono boschi incantevoli, pascoli in alta quota, maglie, baite, basalti? Lo sapevi? Io no. Lo sapevi che tutto questo a pochi passi da casa tua? Io no, ma ora lo so. Partanto, vieni a scoprirlo anche tu. Vi invito a vedere il meraviglioso Parco Naturale Regionale della Lessinia. Top! Buona così. Perfetto, assessore. Bene ragazzi, dai che godo a partire. Vago a Londra una settimana. Ho 3.000 euro, volo, albergo, tutto compreso. Bello, bello. Volevo andarci anch'io ma non ho il passaporto. Ah, che non serve il passaporto per andare a Londra? Eh sì che serve, da quando c'è la Brexit, sì. Là? La Brexit, l'uscita dall'Unione Europea. Eh sì, prima che sento? Ma quindi non ho più euro, non ho le sterline, non ho introdotte di nuovo? No, 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 le sterline ci sono sempre state e non le hanno mai tolte. Mai tolte? No. Ragazzi, c'è il Tony Blair che ne combina una e l'altra, c'è incredibile. Scusi, Tony Blair non c'è più dal 2007 se non mi ricordo male. Sì, scusa, voglio dire cosa là. No, Obama, c'è altro. E sei in America, Obama. Comunque non posso più andare. Eh no, senza passaporto no. Che c'è chi lo sapeva? Ignorante non è chi non sa. C'è chi spende 3.000 euro per andare a Londra e non ha il passaporto. E qua ha ragione. Scopri il parco della Lessinia. Escursioni, cascate, torrenti, passeggiate in malghe, sport estivi e invernali e molto altro ancora. Visita www.lessinia.verona.it Ragazzi, l'ho risolto per il viaggio a Londra. Oh, vedi che così ignorante non è? Vago in macchina. Come non detto. Ma in buona compagnia vedo. Longa sign.